Ragazzi, neanche a farla apposta, ve lo dicono in faccia, non nascondono niente. Tom Cruise e John Collins saranno al concerto per Carlo III. Allora, per chi non lo sapesse, Tom Cruise è praticamente il capo della setta Scientology. Scientology. E John Collins, ve la ricordate? È quella che ha fatto Dynasty. Tarara, tarara. Ve la ricordate Dynasty? Dinastia, no? Proprio, i potenti, alla facciaccia vostra. John Collins è questa qua, quella che faceva questo teleromanzaccio. John Collins. Dynasty, la dinastia, eh? Di potenti. Quindi invitati, Tom Cruise. Uno che fa parte massone, sette, e chi ne ha più ne metta. E l'altra che faceva Dynasty, la dinastia. E chi ne invita? Un re. Bene, continuate. Io per fortuna, in Italia non c'è più la monarchia. Però abbiamo una repubblica che è peggio della monarchia, purtroppo. Ditemi cosa ne pensate. Biscerna. Beinhad.